Sarà la nota criminologa Roberta Bruzzone, la relatrice ospita al convegno su stalking e cyberbullismo come difendersi, organizzato a Lanciano dalla Camera Penale in collaborazione con l'associazione La Luna di Seb e il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'incontro, presentato in conferenza stampa dall'avvocato Michele Di Toro, presidente della Camera Penale Frentana, si svolgerà domani pomeriggio a Palazzo degli Studi. La presenza purtroppo è in continuo aumento, il cyberbullismo particolarmente nei confronti per quel che riguarda i giovani e dello stalking come fenomeno che purtroppo attraversa tutte le fasce di età fino ad arrivare nelle ipotesi più gravi al famoso episodio di violenza ripetuta nei confronti delle donne. Il femminicidio che andrebbe anche in questo caso specificato in quanto il termine potrebbe sembrare improprio ed è improprio in quanto non si tratta di una legge, quella che è stata varata da poco, che consente di punire l'omicidio riguardante il sesso femminile, ma si tratta di una serie di interventi normativi volti a tutelare l'aspetto della violenza nei confronti delle donne e quindi una serie di tutele poste, anzi che vanno a rafforzare quelle già esistenti. Grazie.